L'illuminazione pubblica è un elemento fondamentale per rendere le nostre città sempre più smart, sostenibili e accoglienti. Enel X lo sa e propone un'offerta all'avanguardia di illuminazione pubblica in grado di erogare la giusta quantità di luce all'occorrenza, consentendo spostamenti in piena sicurezza e la valorizzazione degli spazi urbani. L'approccio innovativo di Enel X si basa su tre elementi fondamentali, combinati in ogni proposta progettuale. Efficienza energetica, multifunzionalità e digitalizzazione. Grazie all'impiego delle migliori tecnologie LED sul mercato, Enel X permette di raggiungere nuovi traguardi di risparmio e di sostenibilità. Le tecnologie di telecontrollo consentono di comunicare in real time livelli di consumo e anomalie di funzionamento, garantendo ulteriori risparmi nei costi operativi. Ma la frontiera tecnologica più avanzata messa in campo da Enel X è l'illuminazione adattiva. Grazie a sensori posizionati in punti strategici, il sistema consente di modificare automaticamente l'illuminazione delle strade in base alle reali condizioni di traffico, meteo e visibilità. Rispetto a un sistema di illuminazione a LED standard, che avrebbe erogato un flusso luminoso costante durante l'intero orario di funzionamento, il sistema di illuminazione adattiva permette di intensificare la luminosità qualora vi sia necessità, rendendo la strada ancora più sicura. E di diminuire notevolmente il livello di illuminazione nelle ore di traffico ridotto, ottenendo così il massimo risparmio energetico e riducendo i costi e l'inquinamento luminoso. Con Enel X ogni elemento urbano diventa multifunzionale. È il caso di Juice Lamp, un lampione che combina l'illuminazione pubblica di ultima generazione con ben due punti di ricarica per veicoli elettrici. L'innovazione e la digitalizzazione non si fermano qui. Le soluzioni di Enel X trasformano anche il modo di vivere la città e partecipare alla sua gestione. L'app Yurban è uno strumento efficace di collaborazione tra cittadini e amministrazioni. Grazie a Yurban, i cittadini possono segnalare tramite smartphone malfunzionamenti o guasti dell'illuminazione pubblica. Sull'apposito portale le municipalità potranno gestire le segnalazioni e monitorare i lavori di manutenzione e i consumi energetici. Enel X, il partner ideale per ripensare l'energia in modo innovativo e costruire assieme il futuro delle nostre città.